Andrea Bricca, mister del Sansepolcro, possiamo dire un Sansepolcro decisamente in crescita, è mancato solo il gol? Sì, sicuramente un passo in avanti, comunque venivamo da tante partite difficili come le era oggi, perché il Gavorrano in questi ultimi anni arriva seconda, terza, quarta, vince la Coppa Italia e anche quest'anno arriverà tra le prime cinque sicuramente, quindi la prestazione è stata veramente importante, un pizzico di rammarico, se mi posso permettere, sono contentissimo così, forse potevamo anche vincerla. Bel gioco, fraseggio, raddoppi, triangolazioni, insomma una squadra in crescita. Sì, sì, no, mi è piaciuta tanto, volevamo dare una risposta alla società, volevamo dare una risposta alla città e questo è stato fatto, perché comunque anche domenica, soprattutto il secondo tempo a Livorno, abbiamo fatto una buonissima prestazione. In quello che c'eravamo preparati tutta la settimana, cioè nell'essere compatti, nel giocare anche qualche volta non solo con i piedi ma con il cuore, quello ci siamo riusciti pienamente. Di questo sono molto soddisfatto e ringrazio tutti i ragazzi. Io penso che sia da ringraziare anche il pubblico che ha apprezzato la prestazione e vi ha salutato con energia anche alla fine. Assolutamente sì, è un uomo in più, in queste categorie non è scontato avere un pubblico del genere, c'è un attaccamento, un entusiasmo che noi dobbiamo essere bravi con queste prestazioni a mantenerlo. Quindi grazie a tutti.